Tra le tappe imperdibili di Modena c'è sicuramente il Mercato Albinelli. Andiamo! Lo storico Mercato Albinelli è il luogo perfetto per assaggiare tutte le prelibatezze della città. Qui troverete più di 65 bancarelle che vendono specialità del territorio come i salumi, l'aceto balsamico tradizionale e la pasta fresca. Potete comprare qualcosa da portare a casa o sedervi come abbiamo fatto noi, per gustare un bel piatto di tortellini.